Lunedì 7 eccoci con l'oroscopo degli angeli, l'oroscopo del Forti su Cluster FM e sul podcast per chi ci riascolta sui nostri social cerca questo oroscopo podcast, oroscopodcast. Ariete, per l'Ariete c'è da fare attenzione nella giornata di oggi, è un po' giornata da maglia della salute quindi state molto attenti a quello che combinate. Toro, il Toro invece ha una giornata si potrebbe dire fantasmagorica, gli angeli sono lì con le loro energie e sta a voi scegliere quella giusta. Per i gemelli c'è un angelo particolare oggi che vi sorveglia, si chiama Assalia e cerca un po' di proteggervi, è un momento di meditazione ma che deve portare a un risultato. Cancro, tante voci da raccogliere ma tante voci anche da lasciare andare quindi ascoltate e scegliete la voce giusta. Leone, le aspirazioni sono importanti, bisogna proprio però capire, cioè capire a cosa volete aspirare, cosa cercate e allora poi potete iniziare la ricerca. Nati sotto il segno della Vergine, consiglio degli angeli, oggi per voi è quello di mettervi in luce, mettete in luce il vostro talento, non avete, non abbiate paura, non dovete avere paura di nessuno, insomma mettervi proprio in luce. Per la bilancia, qui c'è un qualcosa da attraversare, c'è un momento in cui bisogna riuscire ad attraversare, passare veramente oltre. Per lo scorpione, lo scorpione ha bisogno di un angelo in aiuto, magari è l'amico, magari è quel signore là, attenzione, c'è qualcuno che vi sta aiutando, a volte non ve ne accorgete nemmeno. Cari amici e amiche dello scorpione, sagittario, centrate il punto, centrate la situazione, perdete piuttosto un po' di tempo, ma non lasciate le cose così fatte a caso, ma ben centrate e definite. Capricorno, è in famiglia che il capricorno oggi si sente un po' legato, un po' chiuso, allora cercate di uscire, cercate gli angeli, insomma vi dicono che lì c'è un circolo chiuso. Acquario, un angelo d'acqua arriva proprio per l'acquario quest'oggi, tra l'altro, un angelo che vi porterà in mezzo alle chiacchiere, in mezzo anche alla società, perché per partecipare bisogna bagnarsi i piedi nel fiume, bisogna riuscire a entrare. Pesci, i pesci hanno un segreto da tenere, un segreto che li può portare sull'orlo di qualcosa di difficile, quindi fate attenzione un po' al tempo e un un po' al segreto, che non vi faccia male. Da riascoltare questo oroscopo sui social di Cluster, su Radio Raccontiamoci, l'Orosco Podcast.